Buongiorno, sono le sette e mezza del mattino, siamo a Piste, vicino Cicenizza, porti per la colazione e poi andiamo a visitare per l'appunto Cicenizza. Siamo dentro la zona archeologica di Cicenizza e abbiamo appena scoperto che Cicenizza significa la bocca del pozzo dello stregone dell'acqua, perché l'acqua è la parte più importante, infatti si trova diversi cenote, proprio qui a Cicenizza. Questa è la capanna tipica dei Mayan. Cicenizza 6 giocatori, corriva qua nella parte bassa, un capitano corriva lì. Capitano è l'unico che importa il legno, che butta la palla nel buco. Ah, ok. Il sonno è un lomantopeico, un corciofo con il nome, si chiama Poc Tapoc, senti. 5 giorni della sportifica, diam l'acqua, ok. 5 giorni della stvar abbiamo finito la nostra visita a Cicenizza molto molto bello siamo al cenote di Icchivi siamo pronti per la nostra ultima cena a Cicenizza perché mi hai fatto dormire? adesso sono tutta intronata sei tu un bello quando sei intronata ultimo giorno a Cicenizza pronti per la colazione siamo sulla strada per Ecbalam a Cicenizza arrivati a destinazione Ecbalam a Cicenizza 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 e via verso il rio lagartos siamo arrivati al rio lagartos all'hotel Punta Potto Punta Potto Punta Potto partire per il nostro tour nella laguna del rio lagartos per vedere i piccoli e via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' il tramonto di una bellissima giornata. Ciao e benvenuti al primo vlog di viaggio dal Messico. Siete pronti a partire con noi? Percorreremo insieme quasi 3000 km tra robine maia, pozze d'acqua cristallina, mercati, piogge torrenziali, spiagge deserte e molto altro.